Come è la fase di pre-ingrasso? Come è la fase di svezzamento della semina, perché la semina viene acquistata piccolissima dai centri di riproduzione, stiamo parlando di 1, 2, 3 milioni di esemplari in un chilo, quindi sabbia a vederla, però a partire da questa taglia che è vulnerabile, soprattutto i granchi la mangiano, ci deve essere operata tutta una sequenza di attività per lo svezzamento, cioè per proteggerla fino alla taglia che permette poi l'immissione in allevamento, i granchi a quel punto non hanno più facoltà di romperla, di mangiarla e può continuare la crescita fino alla taglia commerciale.